In 500 si sono messi in marcia il ricordo di Federica Canneti, la 22enne che ha perso la vita lo scorso 9 ottobre in un terribile schianto lungo la regionale 71. Una lunga marcia in memoria di tutte quelle farfalle che hanno interrotto il proprio volo, una solidarietà fuori dal comune, quella manifestata dalla comunità castiglionese nei confronti della famiglia di Federica. In una domenica mattina quasi primaverile accompagnati dal sole, scriveva ieri mattina il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, circa 500 persone a piedi o a cavallo, giovani e non, hanno camminato con il pensiero alle farfalle che sono volate in cielo troppo presto, ciao Fede. E oltre alla camminata è partita nei giorni scorsi anche una raccolta fondi del tennis club castiglionese per istituire una borsa di studio intitolata a Federica. La nostra Federica scrive sull'home page il club castiglionese ha fatto tutta la trafila della scuola tennis arrivando a conquistare nel 2017 il titolo di campionessa regionale di serie D1 e la promozione in serie C ricevendo lo scudetto e la coppa dalle mani del suo sindaco Mario Agnelli. Con questa borsa di studio vogliamo ricordare per sempre Federica e permettere a chi ne beneficerà di avere un aiuto concreto. Intanto prosegue l'iter giudiziario sul fronte della dinamica esatta dell'incidente. Il perito incaricato dalla procura di Arezzo Fabio Canè dovrà stabilire soprattutto la velocità a cui viaggiava l'auto su cui si trovava Federica. Si procede per omicidio stradale.